È finita tra Antonella Mosetti e Salvatore Gabriele Valerio. La showgirl ha annunciato la rottura sui social per evitare che venisse diffusa una versione inesatta. La relazione è durata circa due mesi. La Mosetti è pronta a voltare pagina e spera che il prossimo uomo che incontrerà sia quello giusto. Antonella Mosetti, prima che si diffondesse la notizia con dettagli inesatti, ha preferito prendere la parola sui social. Su Instagram, ha chiarito che tra lei e Salvatore Gabriele Valerio è finita. 33 anni lui e 42 lei, tra loro c'erano 9 anni di differenza. Visto che scriveranno inesattezze, preferisco dirlo io e sono tornata single. Forse il prossimo sarà quello giusto. Lo scorso mese, Antonella Mosetti aveva raccontato sulle pagine di chi di aver conosciuto Salvatore Gabriele Valerio grazie alla figlia Asia Nucetelli. E pensare che quella sera non volevo uscire. A volte i figli fanno le cose per bene. Sono in debito con Asia. Eravamo in un locale a Roma, me l'ha presentato mia figlia Asia, assurdo. Ed era una serata nuova per me. Io e Gabriele ci frequentiamo da un mese. Lui è più giovane, ma ha una gran testa e mi fa stare bene. Spero di trovare la mia serenità. Mi manca l'amore. Spero sia lui, lo dico con il cuore. Salvatore Gabriele Valerio ha 33 anni ed è un musicista. Nel 2004 ha partecipato ad Amici ma non ha riuscito ad accedere al serale. Due anni più tardi, dopo aver preso parte al musical Famé, è diventato un membro degli studio terzo insieme ad Andrea Vetrala e Marco Venturin. Nel suo percorso lavorativo si è anche cimentato come doppiatore nel film Arango. Nel 2015 ha partecipato a Taiwo e Sofitali. Chi se ne frega.